Ha trasformato la sua esperienza di tossicodipendenza e faticosa uscita dal tunnel della droga in una campagna di prevenzione al consumo di sostanze stupefacenti e contrasto allo spaccio. Ora Alessandro Giardini fa un salto in avanti. La sua pre-action da campagna informativa si trasforma in una struttura organizzata di volontariato, un battesimo arrivato domenica al Parco Miralfiore in un luogo simbolo di questa missione e in una data cara a Giardini come quella del compleanno del nonno scomparso 35 anni fa. La morte io l'ho vissuta quando sono caduto nella droga. Cioè io lì ero, a parte con le dosi che ho rischiato, ero più di là che di qua. La rinascita è quando poi ho preso la mia vita in mano e l'ho fatta in modo di trasformarle in qualcosa di utile. Cioè quello che pre-action si è ripromessa di fare. Noi punteremo tanto, tanto, tanto sulla prevenzione perché i ragazzi devono sapere, i ragazzi devono parlare di droga con chi magari ci è già passato. Cioè io non sono un maestro di vita che possa andare a dire a un ragazzo come deve vivere, come deve fare la sua vita. Sarei l'ultima persona di questo mondo. Non sono un professionista, però sono uno che vent'anni ha combattuto con questo mostro perché è veramente un mostro e quando tu glielo fai capire e glielo trasmetti veramente dal cuore loro ti ascoltano perché glielo hanno fatto parecchie testimonianze e quando hai 200 ragazzi che per un'ora e mezza, due ore non fiatano vuol dire che l'attenzione l'hai centrata. Una missione, quella di pre-action, applaudita da componenti della giunta comunale e dell'opposizione, così come da esponenti delle forze dell'ordine per una campagna di prevenzione che mirerà in particolare ai giovani e agli istituti scolastici. Anch'io ho fatto due testimonianze qui al mirazione più dedicate alla lotta allo spaccio. Purtroppo ragazzi lo spaccio ci sarà sempre, ovunque e dovunque. Ovviamente ci sono le forze dell'ordine che devono vigilare, che devono contrastare, che devono cercare di fermare questo fenomeno, però bisogna arrivare prima, arrivare prima di loro. C'è una lotta impari perché questi sono dei demoni, ma noi dobbiamo far sì che i ragazzi non vadano, cioè vi faccio un esempio pratico. Se il ragazzo entra dal cancello qui di via Cimarosa e gira a destra, va verso la morte. Se gira a sinistra vuol dire che si fa una bella camminata può essere una cosa salutare. Ecco, quindi bisogna convincerli, ma non prendendoli in giro, perché poi sarebbe la più brutta risposta che gli puoi dare, ma raccontando tutto te stesso.